Si completa a martedì sera il turno numero 4 del girone di ritorno del campionato di Serie A con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Visti i risultati del weekend, entrambe arrivano a questo compronto in stati d'animo differenti e con diverse ambizioni. Da una parte la Roma che lotta per lo scudetto, dall'altra la Fiorentina per l'Europa. Nel precedente turno di campionato i giallorossi di Luciano Spalletti sono stati sconviti a Genova da parte della Sampdoria con il ponteggio di 3-2. Mentre i viola di Paolo Sosa sono stati costretti al vareggio interno 3-3 dalla formazione grifona del Genoa in una partita ricca di emozioni. Mimmo Siena, Speciale News.